L'acqua è l'elemento primario di vita, è la fonte di energia, senza la quale nulla può nascere, né può esistere. Nel mondo però, milioni di persone soffrono e muoiono proprio per la mancanza di acqua sana. Ecco perché il Rotary Distretto 2040 ha concepito un grande progetto, un progetto che si chiama Acqua Plus. Grazie a tutti. Realizzato in collaborazione con Expo Milano 2015 e con partner di grande professionalità, Acqua Plus vuole contribuire a raggiungere un traguardo molto ambizioso, sradicare la fame e la sete nel mondo, rendendo l'acqua sana per bere, per l'igiene e per le coltivazioni agricole. Il progetto Acqua Plus è già in corso di realizzazione ad Haiti, nel comune di Torbeg, in provincia di Lecai. È una zona agricola con circa 10.000 abitanti, la più povera del continente americano. In questa zona c'è acqua sufficienza, ma la popolazione non è capace di utilizzarla in modo corretto, specialmente in agricoltura. Acqua Plus sta ripristinando ed ampliando l'acquedotto esistente, con relative fontane e canali di irrigazione. Inoltre, vuole educare la popolazione a coltivazioni differenziate, con contenuto nutrizionale adeguato, e aiutarla a mettere in piedi una propria attività economicamente redditizia, basata su prodotti agricoli e autoctoni, come la maniocca e l'albero del pane. Tutto questo sarà supportato da attività specifiche, per formare la popolazione in scuole e centri appositi, perché l'obiettivo prioritario e irrinunciabile del progetto è ottenere risultati duraturi nel tempo. Come disse Sergio Mulic, che nel 1978 diede vita a Polio Plus, il più grande successo del Rotary di tutto il mondo, il progetto Aqua Plus è forte come un sogno. E proprio come un sogno, è imbattibile.